Che bello, anche oggi un sacco di pacchi mentre sto facendo il live batteria del nuovo iPhone 7 Seguitemi su andreagalazzi.com se volete sapere se durerà fino a sera Perché oggi giornata veramente stress, colazione stamattina Poi ho un treno per Roma tra mezz'ora Scusate non riesco a organizzare niente perché vado e torno alle 7 sono già a casa Ma i pacchi li apro perché io quando mi arrivano i pacchi non resisto, devo aprirli subito Quindi anche se ho il treno e il rischio di perderlo, chi se ne frega Piuttosto prendo il freccia rossa dopo ma i pacchi me li apro Allora, vediamo cosa c'è qua, anonimo, non so cosa ci sia Molti di questi pacchi sono a me sconosciuti Il primo che mi manda una bomba ha vinto tutto Allora, cosa c'è qua dentro? Vediamo un po' Oh, poteva mancare Kraaa, bello Un altro Amazfit di Xiaomi Ma questa è la versione smartwatch Bene, lo proveremo Poi vediamo un po' in questa scatoletta cosa c'è dentro Tra l'altro la Amazfit, quello diciamo tra virgolette che mi è arrivato l'altro giorno È veramente esteticamente fighissimo Poi vi dirò anche come va perché l'ho appena caricato e me lo sto per mettere al polso Vediamo se riesco a aprire questo pacco di HL Oh, finalmente è arrivato Questo cos'è? Un componente del sistema di sicurezza EasyWiz che è a garanzia Sì, ma non c'è solo quello, non preoccupatevi Ho una ridondanza di sistemi di sicurezza che non potete neanche immaginarvi Comunque è uno dei sistemi di sicurezza a garanzia della cantinetta e dello studio in generale Questo è il rilevatore di perdite d'acqua Quindi lo metterò in bagno nel caso si intasasse il water C'è qualcos'altro? Chissà mai che... Oh, non trovo mai i 500 euro nascosti Vabbè Allora, buttiamo via tutto questo SDA SDA Cosa arriva con SDA? Boh, non lo so Chi lo sa Parapa, parapa, parapa Togliamo il pacco di Amazon Anche quello Non so cosa ci sia dentro Perché? Boh, non lo so È un pacco di Amazon che non mi aspettavo Oh, l'Eco 1 Coolpad, molto cool questo telefono perché costa poco, è molto interessante come specifiche tecniche, lo aspettavo da un po', ma ho sentito Grosso Shop, arriva da Grosso Shop questo telefono, aspetterò di fare una recensione completa, magari adesso lo apriamo perché ve lo faccio vedere, perché le caratteristiche sono veramente interessanti, doppia fotocamera posteriore, il processore è uno Snapdragon, perché BB72 col team di Grosso Shop si sta già mettendo al lavoro per la ROM e sappiamo che le TV con le ROM di BB72 vanno veramente benissimo, quindi non vedo l'ora di provarlo un po' grossettino, è il solito padellone cinese, ma le prestazioni, il prezzo, insomma diciamo che le premesse sono ottime, speriamo che le mantenga, questo lo appoggiamo lì, e ho ancora due pacchi, vediamo cosa c'è qua dentro, lo rompo di violenza perché sto perdendo il treno, LG X-Power, sì non X-Factor, X-Power, dovrebbe durare tanto la batteria e poi, cosa ci sarà dentro qua? Pacco Amazon, vediamo cosa c'è, ma no ma questo è il regalo di Natale per mio figlio, non ditegli niente, l'ho ordinato Chiara, Chiara ti ho detto di non far arrivare i pacchi nel mio ufficio, se no prima o poi facciamo una figura barbina, perché su Amazon vendono di tutto, ciao scappo vado a prendere il treno!